La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione ad un provvedimento che dispone l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro di beni mobili e immobili per un importo di oltre 125.000 euro nei confronti di una società di Rosarno e del suo rappresentante legale. Le indagini svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Palmi sono state avviate a seguito di una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate che ha permesso di ricostruire l'ammontare di quanto dovuto al fisco dopo l'omessa dichiarazione IVA ed erediti per l'anno 2016. Il legale rappresentante della ditta, malgrado avesse ricevuto l'invito ad avviare il procedimento di accertamento con adesione, non ha mai provveduto a regolarizzare la propria posizione fiscale. Da qui il sequestro delle somme vase.